Nei precedenti video abbiamo spiegato che cos'è il corso di specializzazione sul sostegno, chi può partecipare e cos'è necessario studiare per essere ammessi. Ricordiamo infatti che per iscriversi ai corsi indetti dalle università sarà necessario superare delle prove di accesso che consistono in un test preselettivo, in una o più prove scritte, in una prova orale. Il test preselettivo si svolgerà il 15 e 16 aprile e sarà costituito da 60 quesiti formulati con 5 opzioni di risposta, fra le quali il candidato dovrà individuarne una soltanto. Almeno 20 dei quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale invece 0 punti. Il test avrà la durata di due ore. Sarà messo alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede. Saranno inoltre ammessi alla prova scritta coloro che all'esito della prova preselettiva abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi. Non è dunque previsto un punteggio minimo. Questo significa che a parità di punteggio in un Ateneo si potrà superare il test mentre in un altro no. Faranno infatti la differenza il numero dei posti disponibili in quella università e il punteggio ottenuto da coloro che avranno il punteggio più alto. Saranno inoltre anche ammessi in soprannumero ai relativi percorsi soggetti che in occasione dei precedenti cicli di specializzazione abbiano sospeso il percorso ovvero pur in posizione utile non si siano iscritti al percorso, siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni, siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito ma non in posizione utile. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti messi a bando, le università potranno integrarla con soggetti collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito dei altri atenei che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili. A tal fine, preso atto che la valutazione dei titoli è demandata alle autonome scelte delle sedi, gli atenei provvederanno a rivalutare i titoli dei candidati in questione in conformità ai propri bandi. Per la preparazione ai test preselettivi del 15-16 aprile e alle successive prove, la tecnica della scuola propone alcuni corsi learning e webinar su alcune tematiche delle prove. Per saperne di più visitate il sito www.tecnicadellascuola.it e continuate a seguirci per restare sempre aggiornati su tutte le novità.